Il controverso comico francese Diodonet in Balambale è stato condannato a due anni di prigione per evasione fiscale, appropriazione in debita e riciclaggio. Era accusato di aver occultato oltre un milione di euro, soldi provenienti dai suoi spettacoli. Diodonet ha annunciato che farà appello, aveva assunto posizioni politiche sempre più estremiste, avvicinandosi fra l'altro al vecchio Jean-Marie Le Pen, che era stato padrino di battesimo della figlia. I suoi spettacoli erano stati accusati di aperto antisemitismo ed era diventato sempre più difficile per lui trovare sale e teatri dove esibirsi, tanto che le sue tournée erano un po' a sorpresa, con spettacoli confermati all'ultimo momento e sempre più simili ad apni in politici. Si era candidato diverse volte, ma non era mai stato eletto. Il polemista di 53 anni non era in aula e considera questo un processo politico contro le sue posizioni pubbliche.